C'è grande delusione nel comune di Castelli per essere arrivato terzo su 17 concorrenti nella graduatoria finale del bando Linea della Regione Abruzzo. Attrattività dei borghi, 20 milioni di euro per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo a rischio abbandono. Il progetto Castelli, Borgo Internazionale della Ceramica, si basava su tre direttrici principali. La sede storica del Museo della Ceramica, inagibile per il terremoto, il liceo grue che aspetta il riconoscimento di scuola rara e il comparto artigiano. C'è grande amarezza e grande delusione da parte dell'amministrazione comunale ma di tutta la cittadinanza di Castelli per la mancata selezione per la linea A del bando dei borghi. Naturalmente facciamo i complimenti a Calascio che è stata selezionata, però la nostra cittadinanza è permeata da una grande delusione perché sapevamo di aver prodotto un progetto di grande valore, su cui abbiamo lavorato grazie alla collaborazione del COPE e dei progettisti di Unico Gran Sasso e soprattutto ha messo in piedi una importantissima rete istituzionale, tutte le istituzioni del territorio provinciale, quelle accademiche, quelle del territorio, la Camera di Commercio si erano strette intorno a Castelli. Tanti soggetti del mondo della cultura, dell'informazione, dell'arte si erano espressi in favore dei Castelli. Ricordiamo importantissime istituzioni museali come il Museo dell'Ermitaggio di San Pietroburgo che spingevano per questa progettualità. Purtroppo le cose sono andate diversamente. Il mio auspicio oggi è che tutta questa progettualità prodotta, tutta questa energia per il rilancio di Castelli non venga dispersa, che la regione ne tenga conto e che vengono individuate nuove e future fonti di finanziamento per permettere appunto queste importanti progettualità possono essere messe in campo. Possono essere messe in campo perché noi riteniamo che possano davvero fare la differenza per il nostro territorio. Un territorio che si spopola, che perde sempre di più in termini di addetti lavori nel settore della ceramica quindi è fondamentale per noi poter mettere mano a quei comparti, quello museale, quello dell'istruzione, del liceo e quello del settore della ceramica per poter rilanciare il nostro territorio.